Grazie a tutti. E lì cosa c'è detto? Sempre sale, pane? No, qui c'è roba, sono i salali. Ah, quelli per dopo? Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, amico. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Sì, benedetto, Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel sale che preserva dalla corruzione e ci hai dato un segno della tua sapienza e della vita incorruttibile. Stendi la tua mano su questo dono della tua previdenza che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio Abate. Fa che alla scuola del Vangelo diventiamo anche noi sale della terra per rendere ragione della speranza infusa in noi dal tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Vi diciamo il pane. Sia benedetto, Dio nostro Padre, creatore del cielo e della terra, nel pane quotidiano tu ci doni un segno della tua bontà e l'alimento essenziale della tavola di famiglia. Stendi la tua mano su di noi e su questi pani che ti presentiamo nel ricordo di Sant'Antonio Abate e concedi a tutti i tuoi figli che abitano in ogni parte della terra il cibo necessario per il nutrimento del corpo e la tua parola di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amo. Ora vi diciamo la benedizione agli animali. Andiamo in mezzo? Sì, sì, lei segue a me. Eh ma prima faccio la preghiera. Non è che ripeto la preghiera a ogni... Se tutto è disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto tua immagine hai conferito il dominio su tutte le creature. Per intercessione di Sant'Antonio Abate stendi la tua mano perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo dalle nostre necessità. E infatti in armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e amare te sopra di cose. Per Cristo nostro Signore. Amo. Adesso percorriamo. All'indurmao che ha un bel mese con gli appigli. Sì, ma non ha detto... All'indurmao che è tranquillo. All'indurmao. All'indurmao. E' la parola che si fa più. All'indurmao. All'indurmao. Grazie. Uh, ci sono dei pezzoni. Questo è quello di una volta nel inizio. Eh, ma l'avevo fatta due anni fa. L'avevo fatta a scuola. Hanno un po' di sale lì, anche a Romezzano. Da sì. Ecco, anche a voi. Guarda, 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 guarda. Mi aiuto sempre. Allora, andiamo di qua. Ho paura. Anche il cellulare. Ce l'hanno che siamo andati. È troppo fermo. Anche qui? Ciao, Gizzi. Voglio, guarda, guarda. C'è stato un pezzo. Oh, phai! Ini qua, di giù. È stato un pezzo. Questa è un pezzo. Il tutto è stato di passato. È stato il pezzo. Lo faccio? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.